E' arrivato anche l'ultimo tassello del concerto di Vasco Rossi in programma stasera e domani a Cagliari. Al porto è approdata alle 13.15 circa l'ormai famosa nave che trasporta migliaia di fans provenienti dalla penisola. I cancelli apriranno alle 15.30 ma nella zona della fiera si registrano code già dalla prima mattina. A Cagliari infatti stanno arrivando anche migliaia di persone dalle altre zone dell'isola.